Il decreto Poletti potrà essere approvato in tempi brevi. Non è stato toccato l'impianto originario, quindi regole più semplici per il mercato del mondo del lavoro e soprattutto per l'apprendistato. È un modo per rilanciare la crescita e soprattutto per dare una risposta ai milioni di disoccupati che ancora ci sono nel nostro paese.